La stanza post-gara tra Pescara e Gallina Lancia 5, una partita splendida dal punto di vista agonistico. Iniziamo dalle sensazioni del campo, una gara molto spicolosa, forse anche troppo, la formazione pescadese sicuramente sotto questo punto di vista ha impostato una partita molto dura. Voi però avete avuto un grande spirito di supervivenza, soprattutto nella parte finale della partita, sotto 5-3 avete strappato un pari molto importante, mi sento che è giusto. Qual è la tua analisi di questa partita? Buonasera a tutti, penso che sia stata una partita molto fisica, combattuta. Loro sul piano fisico e sul rosso che hanno cercano di fare la differenza. Noi abbiamo combattuto, ognuno ha dato qualcosa in più di quello che poteva fare, di quello che poteva dare. A livello gioco penso che l'abbiamo pareggiato e a livello gioco abbiamo meritato di più. Poi loro hanno avuto tre gol che sono stati sul rimpaglio e l'ultimo gol sul portiere di movimento è stato uno sbaglio mio, che ho voluto anticipare. Non era il ruolo mio, però è uno sbaglio sempre. Penso che la squadra ha dato tutto fino alla fine e il punto è merito per lo sforzo che avevamo dato e per tutto l'agonismo che avevamo lasciato in campo. Il Pescara fino a questo momento è battuta, prima è classifica, ha un distacco siderale dalla seconda, a Volver oggi, soprattutto nel secondo tempo, che avete dominato a tratti. Avete dimostrato che tra voi il Pescara non c'è così tanta differenza. Qual è la tua analisi su questa stagione? Cosa, secondo te, bisogna procurare di più per arrivare ad avere le stesse prestazioni nella formazione pescarese? Penso che a livello gioco, come ti ho detto prima, abbiamo superato la squadra. Loro sul singolo magari cercavano di fare la differenza e noi magari lo abbiamo cercato di fare sul gioco. Penso che per migliorare questa stagione dobbiamo non avere i cani come abbiamo avuto la settimana scorsa, che è stato un peccato, che ancora piangiamo quei punti che abbiamo perso, che sono quei punti che poi alla fine della stagione non ti ritrovi e che magari ti possono fare il salto di qualità. Con queste squadre bisogna combattere e dare qualcosa in più perché penso che loro con il caos sono delle due squadre, diciamo, delle più forti nel campionato. Però abbiamo dimostrato con tutte e due che siamo all'altezza loro quando ci siamo, quando combattiamo e quando ci proponiamo di giocare penso che siamo al livello loro e anche qualcosina di più. Ok, Gianluca Lastanza, presidente della linea Caccia 5. È stata una settimana molto complicata, l'assenza per diversi giorni da parte dei nazionali, da parte appunto di Chinchio e di Terenzi, l'assenza di Vita Paolo e Rosati che non era disponibile appunto. Nonostante tutto... Nonostante tutto... Nonostante tutto... Nonostante tutto... Nonostante tutto... Ok, volevo farti avere un po' il punto della situazione per quanto riguarda la rosa e tutto quello che è successo appunto in settimana. La visione invece riguardo questa partita. Quali sono le tue sensazioni? Qual è la tua analisi? Ma a livello di rosa Amoedo ha dimostrato di poter essere all'altezza di chi è mancato. L'assenza di Vita sicuramente potrà essersi fatta sentire per alcuni versi, però io veramente credo che Amoedo ha fatto una grandissima gara. Sicuramente il mister questa settimana ha dovuto allenarsi in condizioni veramente difficilissime, come hai detto tu, per l'assenza dei nazionali, per il fatto che Enrico Rosati è andato via con Michael Montagna, quindi ci siamo trovati con Vita che era affortunato, quindi è stato veramente una settimana particolare. Però io credo che veramente a livello di gioco c'è stata solo una squadra oggi in campo, io sono veramente deluso dell'atteggiamento anche del Pescara, perché veramente mi aspettavo che fosse un po' più positivo, ho visto una squadra che è stata schiacciata e ha avuto veramente dei gol fortunosi comunque. Io sono amareggiato del risultato, anche se è venuto alla fine, perché veramente per quello che abbiamo prodotto, io penso che sia una squadra che doveva largamente vincere, ma poi non so, sarò forse troppo di parte. Quello che abbiamo potuto notare, riguardo la direzione arbitrale, ovviamente è sempre molto complicata arbitrale partire così difficili, però forse è mancata un po' di prevenzione, soprattutto nella fase iniziale, questo ha comportato il degenerarsi, è diventato alla fine quasi una cara di Sosa, io mi sento di dire che probabilmente un atteggiamento di prevenzione da parte della coppia arbitraria poteva evitare questo per il degenerarsi. Qual è invece la tua analisi di questo? L'analisi in particolare, io non ho visto comportamenti scorretti da parte dei giocatori del Pescara in particolare. L'unico soggetto che si distingue sempre, sistematicamente, che ormai è proprio sistematico negli interventi, cerca sempre di far male, lo ha fatto anche oggi il Battistoni, è il solito Caputo che non si risparmia mai di certi interventi gratuiti. Poi devo sentirmi dire da Colini che noi abbiamo minacciato il portiere e che Caputo ha fatto un semplice intervento da gioco. Cioè, quello che abbiamo detto noi al portiere del Capuzzo, che ha fatto una papura, abbiamo detto al massimo paperone, abbiamo schermito per qualcosa così, ma penso se i tifosi non possono fare nemmeno quello. Quello che è grave è che io devo essere minacciato in casa mia da dirigenti del Pescara, che mi dicono di non presentarmi a Pescara, per avermi soltanto detto di non rivolgersi verso i nostri tifosi per non aiza animi, che non serviva a niente. Gli abbiamo riservato un settore, si sono messi il primo, nel nostro settore dove ci mettiamo sempre e li ho invitati ad andare nel loro. E alcuni episodi si sono rivolti verso di noi con frasi, anche se non erano offensive. Ma si deve evitare, io ho soltanto detto di quello, di stare zitti come abbiamo fatto noi quando siamo andati a Pescara. Noi ci siamo messi al nostro posto e non abbiamo mai rivolto nessun tipo di parola verso il pubblico del Pescara per rispetto. E loro non devono fare altrettanto. Stanno lì, si vedono la partita, ma verso i tifosi della Dina non ci si devono rivolgere in nessun modo. Solo questo qui ho chiesto. Ok, questo è giusto e doveroso sottolinearlo. Un punto che alla fine, a molti fatti, è un punto guadagnato di punti persi. Io faccio la stessa domanda prima ad Avellino e poi a... Ah, ripeto, come si è messo il risultato alla fine, certo la gioia rimane, però per il gioco è un prodotto. Veramente, io penso che qualsiasi analisi possa essere fatta, se c'era una squadra che meritava di vincere oggi era la Dina. Cioè veramente i gol loro sono stati tutti i gol senza un minimo d'azione, molto fortunosi. Quindi la Dina ha prodotto il gioco e tutte le azioni, i gol, e il portiere loro ha fatto diversi interventi salvando il risultato. Penso che se c'era una squadra che dovrebbero vincere, non dico l'eresia, ma era la Dina. Questo ne sono convinto. Ok. No, guarda, io dopo la settimana che abbiamo vissuto la società, il mister e la squadra per come abbiamo dovuto allenarci e per tutto quello che abbiamo sofferto insieme, magari la fortuna questa volta ci ha tirato dalla nostra parte negli ultimi 40 secondi. Penso che... Un pio paolo del Bernardo. Sì, no, però nel senso come si era messa la partita, mancando un minuto a fare due gol, è un punto guadagnato se lo guardiamo da quel lato. Però penso che quello che abbiamo vissuto e per come è andata questa settimana, un premio, ci meritavamo. La società, lo staff e la squadra che in tutte queste condizioni nessuno ha abbassato la testa, nessuno... Sempre ci siamo compattati, abbiamo cercato di andare tutti alla stessa parte. E questo è quello che magari ci fa girare un pochino la fortuna dalla nostra parte. Poi sugli episodi, sulla partita, un'analisi un pochino più difficile da fare, così a caldo. Però, come si era messa la partita a due gol sotto, un minuto, penso che un premio ci meritavamo. E questo è un punto di partenza, che siamo all'altezza di queste squadre e dobbiamo ancora ripeterci la settimana prossima. Ok, grazie. Grazie. Mister Basile, posto di gara tra Axel Group, la Lina Carciacinco e Pescara. Una partita che avete giocato con molta autorità. ha avuto autorevolezza, siete stati soprattutto molto aggressivi nella seconda parte di gara. Era una partita che ti ha aspettato in questa prima parte che ti faccio? Noi siamo abituati, l'abbiamo detto più volte, a giocare sempre così, al di là di chi sia il nostro avversario. Quindi, chiaro che il Pescara è una squadra fortissima, però nessun timore l'abbiamo affrontata così come affrontiamo, per dire, l'ultima della classe. Ma per noi, questo è il nostro tipo di gioco, sappiamo giocare così e proviamo sempre con qualsiasi avversario a giocare così. Alcune volte ci va bene, come oggi, alcune volte meno bene. Però la nostra filosofia, la nostra mentalità è questa. Quindi abbiamo provato a partire subito forte, siamo riusciti. Poi quell'episodio purtroppo ha creato confusione e ha cambiato anche l'inerzia della partita. Perché anche il primo gol loro è frutto, sì, è vero di un rimpallo, ma comunque di una nostra distrazione che è venuta sicuramente da quel momento di confusione che tutti, in panchina, arbitri, giocatori in campo, stavano vivendo. Quindi, però, per il resto penso che la squadra abbia fatto il massimo e credo veramente il massimo per quello che è stata la condizione e lo status in questa settimana. Perché veramente ci siamo allenati in sei, più un portiere. Siamo riusciti a preparare la partita in sei, cercando di non perdere intensità, di non perdere ritmo. Direi che ci siamo riusciti. Avete avuto una grande reazione, soprattutto quando siete andati sotto per 3 a 1. La partita sembrava quasi un promessa. Nel secondo tempo io ho visto un cambio di atteggiamento, di mentalità. La squadra ha cominciato a pressare il pescara nella propria vita al campo, cosa che non aveva fatto una volta che aveva passato il vantaggio. Perché evidentemente voleva gestire, cercare di gestire il risultato. Ovviamente, avendo questo atteggiamento aggressivo, anche in una situazione di vantaggio, forse la partita sarebbe potuta andare diversamente. Qual è la domanda? Sì, sicuramente il primo tempo, i primi due minuti, forse un minuto e mezzo prima del gol, avevamo iniziato così. Poi è chiaro che la squadra gioca con la prima della classe, va in vantaggio 1-0. Quindi è chiaro che pensa, lo so che dopo un minuto e mezzo, però noi siamo una rosa abbastanza corta, messa a paragone del pescara. Quindi in alcuni momenti uno deve anche gestirsi. Sicuramente l'abbiamo fatto troppo presto. E poi, come ti ho detto, l'episodio della manata di Caputo ha cambiato l'inizio della partita, perché lì siamo stati confusionari, abbiamo pensato a, in quel momento, a fare la guerra o ad entrare più duri di loro. E purtroppo, con questo pescara non te lo puoi permettere, perché loro sono fisicamente una squadra fortissima, che poi sfrutta tutti questi episodi, tutte queste seconde palle, rimpalli. Poi davanti alla porta sono molto cinici. Praticamente, io mi ricordo che Simone ha fatto forse una parata, quindi i cinque gol, loro forse sono arrivati sei volte vicino alla porta e cinque volte hanno fatto gol. Poi nel secondo tempo, sì, la squadra ha avuto una grandissima reazione, al di là del 3-1, forse su 4-2. Perché prendere il gol del 4-2 in quella maniera, nel secondo tempo, però la squadra ha avuto grande carattere, e soprattutto grande organizzazione. Perché alla fine non l'abbiamo ripresa soltanto con i nervi, col carattere, ma l'abbiamo presa col gioco. Cioè, penso che Capuozzo avrà fatto 4-5 parate miracolose, super unità numerica, in due minuti abbiamo calciato forse 4 volte, uno contro uno col portiere. Portiere di movimento, oltre ai due gol, l'abbiamo creato ancora, essendo anche stanchissimi, quindi... È vero, come dice il Presidente, subiamo del gioco, però alla fine questo per noi è un punto pesantissimo, al di là della classifica, perché ci permette di stare anche un po' più tranquilli in chiave final lead. L'abbiamo fatto col Pescara, che aveva fatto 8 vittorie e un pareggio, quindi è vero che potevamo vincere, però ce lo prendiamo il punto, perché è frutto del lavoro in condizioni veramente di emergenza. Io non ho mai visto il Pescara, in effetti, così tanto in difficoltà come nel secondo tempo giocato questa sera. Io, all'oltre, vorrei capire a questo punto se le due assenze forzate, pesanti, che ci saranno da qui fino alla fine della stagione, costringeranno la società a intervenire dal punto di vista tecnico per cercare di formare queste lacune, oppure cercare delle soluzioni interne. No, guarda, il direttore sportivo insieme ha sottoscritto con la società che stiamo facendo l'impossibile per almeno aggiungere una pedina, che sia una pedina importante. Stiamo lavorando veramente 24 ore 24, speriamo di riuscirci perché abbiamo bisogno di almeno di un altro giocatore per allungare la rosa, perché sennò, soprattutto, non per la gara, ma soprattutto per l'allenamento, perché nell'allenamento, allenarsi poi in otto, appena uno ha una contrattura o un mal di testa, non si può neanche fare un gioco reale di 4 contro 4 in previsione della partita, quindi ci stiamo lavorando, speriamo di arrivare a un giocatore importante che ci dia, diciamo, un maggior apporto, soprattutto durante la settimana e chiaramente poi utilizzabile anche durante il campionato. Grazie.